Fammelo vedere... No, non ho un Lotad, non è un Lotad... Che delusione... Ok, va bene... Secondo soltanto, ragazzi, voglio prendere un Lotad! Dov'è il Pokémon Bassoio? Qua, eccolo qua! Siamo in unimpi! Giapoi per la garla! Com'è visto l'hotad più grande di questo? Com'è visto l'hotad più grossi? Guarda che vuole vedere quanto ce l'ho grosso. Triste. No, non ho un Seedot, ma che cazzo di Pokémon è Seedot? Lo sapevo comunque che serviva un Seedot pure. No, scusatemi eh. Seedot mi pare che è il Pokémon tipo trottola, mi pare. Dov'è Seedot? Mi pare che l'avevo catturato. Dovrebbe essere qua, una volta ho catturato lui. Che cazzo di Pokémon è Seedot? Ce lo dovrei avere Seedot, eh? No. Dov'è cazzo è Seedot? Mi pare che l'ho. Tristezza, vuoi vedere che non ce l'ho? E tipo sa quale cazzo di Pokémon ne sto pensando. Seedot è il Pokémon ghiando. Eh l'ho! No, non ce l'ho. Puoi vedere quanto è raro sto Pokémon info. Acqua roccia. Evita contraccolpi. Ma non ci può vedere la Rarita? No, no, no. Colloca. Guarda sul Pokédex, se serve a quello. Hai ragione. Ecco. No. Oh! Cazzo! 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 Ah, no, non ce l'ho, Sidot. Non ce l'ho. No, non ce l'ho, Sidot, che cacchio. Visti i 129 e ha presi i 80, ma quanti Pokémon ci sono? Beh, i 184 non sono tanti, eh. Beh, volendo. Ho visto un Pizzir? Non so di fatto che l'ho visto. Vabbè, qua ci sarà l'evoluzione di lui. Poi questo qua. Ah, Wimp si vuole un Wab, affetto, ok. Psyduck questo è Goldack, questo è Raichu. Vulpix, questo sarà la volpa a 9 code. Ah, Kimeko non si evolve. Beh, che è l'evoluzione di Stario, questo sarà Starmy. Fai, basca, cazzo, eh. Wigglypuff, questo sarà Jigglypuff, vabbè. Non so che cazzo di Pokémon sia. Ah, beh, io pensavo fosse lui, Sildo, sì, Dolo, no, pensavo, fosse lui, pensavo di avercelo. Bardock, qua Bardock, qua il pagio di Solrock, Lunaton. Ah, ecco, non si evolve più Altario, ok. Poi qua Cacnea si evolve. Skar Morino, lui, lui. Ah, Slug, ma se lo devo fare Volver, a proposito. Poi c'è Numel e Cameroth. Gulpin. Rosaria. Doduo. Volta. Magneton. Oh, mia, che belle sono i pop, però elettro non ce n'è tanti, eh. Che cazzo è sta cosa? Cos'è? Vediamo che cazzo è. Giusto, perro. Ok. Zona. No, fantastico. Posso vedere dove li posso catturare? No, raga. E se... Fantastico. Raga, 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 bellissima sta cosa, non lo sapevo. Posso vedere dove posso catturare i Pokémon? Vabbè, Tentacole non penso, lo trovo. Ah, invece no, lo trovo. Allucinante. Robot. Vediamo, zona non penso di trovarla, infatti. Golbat. Raga, è epica questa cosa. Golbat lo posso trovare. Acceneride. Ma dai, che ficata. Ficatissima. Beh, Delcati è l'evoluzione di Fluffy. Qua, Gravler. Geridos. Che cazzo sei? Ah. Vuoi vedere che lui è l'evoluzione di lui? Aruhita, Aruyama. Sì, è l'evoluzione. Ragazzi, giuro, vi giuro, mai vissi sti Pokémon. Vigorotto Slugging. Queste qua sono... No, lui si è volve lui, lui si è volve lui. Ah. Quindi Slugot diventa Slugging. C'è sto Pokémon di merda? Ah. Ah. Ah, lui quindi si è volve lui. Ah, che figo Garvoyer qua, eh. No, mi... Da guardate, da preservativo mi è diventato qua The Best in the World. Ah, e mi avete detto che se è maschio diventa un'altra cosa. O sbaglio? Forse ho detto una minchiata? No, sì, mi sa che è una minchiata. Raga, bellissimi sti Pokémon. Wow. Bellissimo. No, raga, perdonatemi, ma sono rimasto affascinato dei Pokémon. Seriamente, wow. Vabbè, aspetta, no, 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 scusatemi. No, 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 perdonate. Fatemi no. Cioè, scusate. Questa Pokémon, no, no, no. Cioè... Cioè, tu vai via. Deposita. Ma poi vai via. Cioè, non ti voglio. No. Ok. Allora. Ma io pensavo tipo ci fossero 600 Pokémon oppure quelli della prima stagione. Invece no. Ci sono rimasto maluccio su questa cosa. Allora, quello dei... Tesori, vabbè, non mi interessa. Tesori antichi sarebbero fantastiche. Mie Pokémon, sì, 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 sì. Non sono da questa città. Non sono da... Ah, bu. Non lo so. Montepira. Sapete che ci sono sfero? Non è... Sì, sì, lo sfero non è. Non lo so. 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 Ah, vabbè. Va bene, dai. Siamo pronti, raga. Siamo pronti! Va bene, dai, ragazzi. Siamo pronti per... Rodolfo. Frizzante come l'acqua cristallina. Oh, oh. Perché non posso entrare? Ci sono rimasto malissimo. Non posso entrare. Che tristezza. Cioè, devo uscire. Vabbè, triste. Non posso... Non posso farci nulla. Deprimento. Ci sono rimasto malissimo. Va bene, dai. Dobbiamo... Percorso 127. Va bene, entriamo qua. Yes! Come vado sott'acqua? Scusatemi, eh. Devo andare ancora più sott'acqua? No. Ok, va bene. Aspettate un attimo che qua io sono un pochettino in crisi. Ma a mia storia lo voglio troppo. Va bene. Ismeraldo c'è il mondo. Oh, non lo so. No, ragazzi. E basta. Oh, non lo so. Grazie a tutti. Raga, fighissimo. Oddio, una caverna. Ma aspetta, arenato qui vuol dire che... Oddio. No, non ho spaccaroccia, ma che cazzo però, eh? No, che mi serve spaccarocci. Ora non ho Pokémon a cui insegnare spaccaroccia. Ah no, che culo. C'ho Altario. Vabbè dai, cazzo me ne ho tanto Altario e lo devo levare. Abbiamo Furio. Oh, yes! Dai, dai, fastidioso che sei. Muori! Ok, grazie. Mamma mia, sono fortissimo. Cosa c'è qua? No, scusatemi, no, 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 di qua, non lo so. Ragazzo, si vada, ma levati un attimo dal cazzo. Ragazzo, si vada, ma levati un attimo dal cazzo. Ragazzo, io non so dove sto andando. Ah, ma che cazzo... Ok, si gira intorno da qua. Oh, fantastico.